buona sera benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni quest'oggi abbiamo come ospite in studio il senatore luca de carlo con cui insomma avremo modo di parlare di molti argomenti buonasera buonasera a tutti tra i tanti argomenti di cui possiamo parlare partirei dalla social card la social card è un ottimo strumento tra l'altro c'erano molti comuni che utilizzavano forme simili io calazzo insomma dal 2010 ho un bando bollette che si assomiglia assomiglia tantissimo a questo intervento anche se si riferisce magari solo alle spese energetiche però sostanzialmente riconoscere alle famiglie con un isa fino a 15 mila euro la possibilità di acquistare determinati prodotti addirittura qualcuno dei quali con degli accordi con la grande distribuzione ne aumentano del 15 per cento l'importo totale ma fino a 382 sono utilizzabili in qualsiasi in qualsiasi negozio di alimentari proprio per intervenire in un momento di inflazione alta e per sostenere magari quelle famiglie cioè quello fino ai 15 mila euro fino adesso avevano avuto pochi riscontri se non quello citato come il mio o quello dell'unione montana fino a qualche anno fa di iniziative comunali e territoriali tra l'altro i primi dati ci dicono che che un grosso successo anche perché l'inps insieme ai comuni ha intercettato quelle che sono le casistiche per le degli aventi diritto e quindi si sta velocizzando molto la consegna delle carte che poi devono essere attivate entro un tempo brevissimo e spese poi entro la fine dell'anno tra l'altro c'è un impegno tra il ministero dell'agricoltura e delle foreste la sua unità alimentare e il mef per prorogare la misura e eventualmente se siamo se ne abbiamo le possibilità anche economiche di ampliarla a maggiori soggetti per ampliare appunto il raggio delle persone che possono usufruirne quindi una misura che fino adesso anche in partenza si è rivelata assolutamente buona e che intercetta veramente il bisogno una un'altra misura su cui siete intervenuti insomma anche in modo abbastanza deciso quella del reddito di cittadinanza sì noi abbiamo sempre detto lo dicevamo quando eravamo all'opposizione è che bisogna scindere tra quelli che non lavorano perché non vogliono e possono lavorare e quelli che non sono nelle condizioni di farlo e quindi era evidente che dovessimo farlo e anche subito qualcuno oggi dice sento le perplessità di magari di qualche sindaco che magari non fa parte della maggioranza che diceva tutto e subito creerà problemi disagi sociali sì però la gente dai nuovi governi si aspetta cambiamenti di passo e questo è un cambiamento di passo anche in ordine di principio chi può deve lavorare soprattutto nel momento in cui abbiamo aziende imprese che non trovano mano d'opera e che sono costrette magari come i nostri rifugi come i nostri ristoranti a chiudere o la mattina o la sera per mancanza di personale chiaro che se noi paghiamo la gente per rimanere sul divano non fare nulla poi diventa difficile sostenere quelle imprese che avrebbero bisogno di maggiori lavoratori quindi diamo le risorse sì a chi ne ha veramente bisogno e liberiamo anche quella grande mano d'opera che chiaramente approfitta in questo caso anche legalmente naturalmente del reddito di cittadinanza per non lavorare che magari ha lavori alternativi per dare quelle risorse a chi in realtà ne ha più bisogno dove ci sono sì le persone che non riescono a lavorare ma ci sono anche quelle imprese che attraverso l'abbassamento del cuneo fiscale abbiamo aiutato e non solo loro ma anche i dipendenti ad avere un fisco più leggero e questa fa parte della nostra filosofia l'avevamo detto subito e lo abbiamo fatto credo che ci si possa accusare di molte cose ma non quella di essere coerenti con le cose che avevamo detto a proposito di imprese di attività economiche c'è il tema dei crediti di carbonio beh insomma questo è un tema molto caro alla provincia di belluno ci aveva lavorato molto dario bond nella precedente legislatura anche grazie all'aiuto di tante realtà del territorio uno su tutte francesco debettin che aveva usato le sue capacità per mettere a terra un'operazione così importante ce l'abbiamo fatta grazie a un provvedimento un emendamento tra l'altro la mia prima firma ma che avevamo promesso avremmo realizzato subito non ce l'abbiamo fatta nella legge di bilancio perché ce l'avevamo insediati da un mese e mezzo e facevamo fatica a far capire l'importanza e il fatto che questo non avesse costi anche agli altri ci abbiamo messo un po l'abbiamo spiegato e adesso finalmente stiamo istituendo presso il crea il registro dei crediti di carbonio volontari che consentirà a tante realtà agricole ma anche selvi culturali pensate ai boschi delle regole pensate ai boschi dei maniali pensate anche ai boschi dei privati che si consorzieranno di ottenere delle risorse per il solo fatto di esistere quindi arrovesciamo anche il paradosso secondo il quale secondo qualcuno non noi l'agricoltura inquina no l'agricoltura trattiene co2 e questo trattenere co2 da da tra un po avrà un un premio che sarà quello che potrà venire scambiato con quelli che sono i grandi chiamiamoli grandi inquinatori ma sono quelli che emettono più co2 e che per il loro bilancio sostenibile acquisteranno crediti dalle realtà locali quindi favorendone anche lo sviluppo e naturalmente le realtà locali avranno delle risorse che deriveranno proprio il fatto dalla gestione e dal possedimento delle foreste chiaramente tutto ciò dovrà essere utilizzato sia per lo sviluppo delle comunità locali ma anche soprattutto per il mantenimento della selvicoltura il mantenimento dei boschi che oggi sono stanno aumentando in termini percentuali nel senso che abbiamo 30% in più di bosco però per la maggior parte dei quali è a scapito dell'agricoltura e delle terre coltivate ma che dovrà essere curato e quindi non solo incurie ed abbandono ma gestione pianificazione con tutta la questione energetica che poi va dietro ma si rovescia soprattutto il paradosso secondo il quale chi produce nel caso dell'agricoltura in quina anche perché i prati stabili quelli delle malghe che magari hanno avuto o avranno nei prossimi anni della PAC minori entrate perché oggettivamente aprendo la PAC a tanti mondi soprattutto quelli dell'est europeo diminuirà il contributo che ciascuna nazione percepirà questo sarà un ottimo strumento per supportare e continuare ad avere malghe gestite e territori montani fruibili perché economicamente stanno in piedi da soli però le aziende diciamo agricole del territorio hanno bisogno di raggiungere determinati obiettivi o soddisfare determinati standard sì ma gli standard quelli ci sono comunque dovranno farli a prescindere quelli sono standard europei ormai sono fissati benessere animale piuttosto che sostenibilità e quant'altro quello che però bisogna far capire in maniera molto chiara è che l'italia è la nazione più sostenibile al mondo in tema agricolo e che tante fake news cose riguardo le emissioni di CO2 rispetto alle stalle ad esempio dove si dice allevamento intensivo innanzitutto bisogna cercare di far capire che gli allevamenti di montagna non sono intensivi mai anche perché se non ci fossero gli allevamenti in questa area tante zone soprattutto quelle di Malga soprattutto quelle di montagna sarebbero completamente abbandonate e anche qui dovremmo fare una forte riflessione sulla questione sulla gestione del lupo che è un'altra delle problematiche che oggi vivono i nostri i nostri agricoltori piano lupo che per cinque anni è rimasto chiuso nei cassetti perché c'era una forte ideologia che ne frenava appunto l'erogazione perché anche la direttiva avvit prevede degli abbattimenti sui lupi è chiaro che nessuno vuole estinguere il lupo però bisogna trovare la giusta gestione il giusto equilibrio tra tutti gli esseri viventi pensando che in questa fase la parte la contraente più debole è sicuramente l'agricoltore che oggi è sottoposto a una serie infinita di adempimenti e si vede per di più anche un patrimonio dello stato qual è il lupo predare le proprie le proprie armenti e quindi qui bisogna mettere un 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 freno ma soprattutto una gestione perché anche ciò che è accaduto con l'orso in trentino è mancata la gestione se il lupo e se l'orso in dieci anni decuplica significa che non è stato contenuto se da noi decuplicano i cervi in dieci anni significa che sono stati sbagliati i piani di abbattimento se da noi il lupo aumenta esponenzialmente vuol dire che trova un habitat naturale nel quale prolificare l'abbandono delle terre a cui facevo riferimento prima con con il 30 per cento in più di bosco e il conseguente aumento degli ungulati lì dobbiamo intervenire per trovare il giusto equilibrio la nostra provincia è fatta di tanti piccoli comuni quindi farei un po una panoramica sulle misure che sono state portate avanti per proprio essere brevi c'è adesso un bando per i comuni turistici nel quale noi ricadiamo che è un bando del ministero del turismo e che è fruibile da tutti i comuni con fino a 500 mila euro all'anno per tre anni e questo è importante faccio appello a tutti perché ci si soprattutto ci si mette assieme perché il fattore turismo non è un fattore semplicemente comunale ma è un fattore di area di zona e quindi la promozione e anche le operazioni che andrebbero fatte sono assolutamente di maggior condivisione con i comuni vicini e l'altro è quello proprio sui piccoli comuni con altrettante risorse messe a disposizione fino a 700 mila qui faccio appello anche qui non solo per per fare le domande anche se è difficile oggi per un comune riuscire a star dietro tutte le questioni del pnr le questioni dei bandi che si aprono ed è per questo che ragionevolmente il ministro fitto ha fatto uno screen tra quelle opere che sono calendarizzate ma ma ragionevolmente fattibile e quelle che non lo sono e quelle che sono fattibili col pnr si possono finanziare con il pnr in modo da non prenda non aver problemi nel caso di ritardo e le altre anche quelle già partite verranno compensate con altri fondi era evidente che succedesse questo sul pnr evidente chi chiunque fa amministrazione sa che ci vogliono almeno cinque anni per realizzare un'opera pubblica pensare che si potessero mettere a terra in due anni e mezzo significava correre per prendere dei finanziamenti ben sapendo che poi difficilmente con con queste regole saremmo stati in grado di metterli a terra e quindi bene che dopo la seconda rata si faccia un punto tant'è che questo c'è valso la terza rata si faccia un punto e si veda quelle che sono realizzabili o meno perché tanti hanno tirato fuori i progetti dai cassetti che avevano con magari già progetti scaduti come interesse della cittadinanza o interesse dell'area in cui versavano. Tra le tante incombenze che i comuni stanno gestendo abbiamo visto anche qualche così malumore a livello locale c'è quella dei migranti? Beh sì insomma è un tema che ci affligge da anni non è un tema di oggi. Oggi l'approccio è cambiato, oggi c'è un primo ministro ed un governo che dialogano con tutti i partner del Mediterraneo, una ritrovata centralità nella politica estera soprattutto nel Mediterraneo per rendersi conto che questo flusso, un flusso immane di persone dall'Africa può venire fermato solo se si creano le condizioni nei loro paesi d'origine, uno di controllo e due di trattenimento. La crisi del grano tra l'altro ha acuito questa situazione anche perché il grano proveniente dall'Ucraina non è un grano che viene utilizzato in Italia, sono l'1.7% del grano che veniva dall'Ucraina. Veniva utilizzato però e veniva dato alle nazioni africane e lì diventa fondamentale perché per loro è il massimo sostentamento. Quindi non dobbiamo ricreare le condizioni per cui loro possano vivere lì. Pensate che il 60% dei terreni arabili che oggi non sono arabili sono in Africa. Se noi li mettiamo nelle condizioni, grazie alla nostra tecnologia, grazie alla nostra ricerca, di poter lavorare le loro terre ma di poter farlo loro, non come sta accadendo adesso con la Cina che sostituisce gli abitanti dell'Africa con i cinesi perché probabilmente hanno una propensione diversa al lavoro e quindi gli africani sono costretti ad andarsi. Lì dobbiamo creare le condizioni perché resta. Quelli che arrivano noi dobbiamo già scenderli subito e velocizzare le operazioni tra quelli che hanno diritto al rifugio, che scappano dalle guerre, da crisi e quant'altro e quelli che invece lo fanno per migliorare la loro condizione. Il principio di base è che noi non riusciremo mai a mettere una damigiana all'interno di un bicchiere. Non riusciremo mai a farlo. Per cui dovremmo essere bravi a fare questo. Di contro il sacrificio che oggi si chiede anche alle amministrazioni locali è quello di vedere se hanno la possibilità di gestire le persone in attesa della comunicazione dello Stato. Per me questo è un errore. Nell'attesa della comunicazione dello Stato devono rimanere nei centri, dopodiché quelli che hanno diritto possono andare alle amministrazioni locali. Questo è un principio fondamentale. Resta che piuttosto che le grandi concentrazioni come quello che è accaduto con Econetta anni fa o Coserma Serena è evidente che una distribuzione più capillare crea meno problemi. Attenzione però. Gestione non vuol dire prendere due migranti, tre migranti e lasciare le sue scaline di un municipio. Quella non è gestione. La gestione è attraverso chi lo fa anche professionalmente. C'erano dei miei esempi di cooperative che riuscivano a gestirlo. Chiaro che è sempre labile il confine tra il business e la gestione. Noi dobbiamo essere bravi soprattutto a fermare il business che parte però con gli scafisti che sono questioni che ormai sembrano non interessare più a nessuno. L'inizio di questo problema è chi lucra sul passaggio dei migranti. Dopodiché c'è un secondo problema che è quello della gestione. Noi dobbiamo contestualmente risolvere tutto sapendo che non è facile ma sapendo che è cambiato assolutamente un approccio e che non può vedere l'Italia da sola ma deve vedere l'Italia all'interno di un sistema quello europeo che ha ben compreso che l'Italia non può essere lab di tutta Europa. Chiuderei con i temi olimpici. Anche quella è una partita fondamentale per noi. Non solo per i lavori che generano e quindi per il beneficio che ne avremo per le Olimpiadi. Speriamo in tempo per le Olimpiadi me l'augro ma anche per tutti gli anni che seguono. Però è anche una vetrina importante e fondamentale. Io credo che la provincia di Belluno intesa non come ente ma come rappresentatività debba entrare non solo nella cabina di regia ma debba anche avere quegli spazi che gli consentono di spiegare costantemente e correttamente ai cittadini la situazione attuale. Perché spesso capita di non sentirsi abbastanza coinvolti, me lo dicono tante categorie, ma anche poi di non sapere le opportunità che vengono a crearsi con un fenomeno come quello olimpico. Io credo invece che la debita partecipazione di tutti poi faccia crescere l'entusiasmo e quindi anche creare in quelle città, in quei paesi che non saranno oggetto delle Olimpiadi stesse un mood, un atteggiamento olimpico che aiuterebbe tutti a vendere meglio il nostro territorio. Si spera diciamo che una realizzazione rapida poi delle opere? Noi stiamo, il governo sta facendo quanto più veloce possibile sapendo che ha ereditato dei ritardi oggettivi. Io l'avevo detto subito, facciamo una conferenza stampa dove spieghiamo cosa abbiamo ereditato, perché dal secondo dopo ci addiritterebbero tutti i ritardi a noi. La realtà è che i ritardi li abbiamo ereditati, ma stiamo correndo con il concerto di tutti e speriamo di mettere a terra tutto. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti, buonasera. E quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni. Grazie a tutti.